La Camera del Senato sono oggi riunite per svolgere l'audizione informale del Ministro per gli Affari europei Vincenza Mendo, la sua risposta europea alla pandemia da Covid-19. L'audizione per motivi di sicurezza legati al contrasto della pandemia si svolgerà eccezionalmente in videoconferenza da remoto per i senatori che si sono uniti presso la sala COC di Palazzo Madama, in linea con quanto disposto dall'aggiunta regolamento del 31 marzo scorso. Avverto in via preliminare che trattandosi di una salute informale non sarà redatto il reso conto scenografico ma la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati e la trasmissione di fritta sul canale satellitare. Anche a nomi di Presidente Gandhi, Preto Cagli e Licchieri, tutti i commissari, do il benvenuto e ringrazio il Ministro Amendola per aver prontamente accolto l'invito delle nostre commissioni a svolgere l'odierna audizione. Ritene infatti indispensabile preservare un dialogo costante tra Governo e Parlamento, specie in considerazione della complessità e dell'importanza delle decisioni che si stanno assumendo per fronteggiare la tragica emergenza della Covid-19. Prima di iniziare svolgerà solo alcune brevi considerazioni introduttive e è innegabile ci sia stata una costante interlocuzione che in ragione della complessità dei primi trattati e della difficoltà del contesto hanno dato vita a un confronto serrato e complesso tra gli stati membri dell'UE sulle misure da adottare per predisporre una risposta comune a quella che si prefigura come la più grave recessione dal secondo dopoguerra. L'Unione Europea, dopo l'iniziale momento di incertezza, sta cercando di coordinare gli sforzi per aiutare come meglio può gli stati membri nel contrastare la gravissima crisi sanitaria in atto, ma ancora più sta cercando di definire strumenti adeguati per far fronte alla gravissima crisi socio-economica che l'emergenza Covid sta causando. Sappiamo bene che l'Unione sta affrontando forse la più grande sfida dalla sua formazione che è di fronte a un bivio, evolversi o disintegrarsi. Chiave rinunciabile per la prima delle due strade è la solidarietà all'interno dell'Unione, solo attraverso la piena espressione dei valori fondamentali dell'UE oggi possiamo davvero uscire come una unione dalla crisi. È il momento di lasciarci alle spalle la oggettiva ineguatezza di alcune politiche e regole che l'UE si è data e che si sono rivelate non aggiornate rispetto ad una realtà interna e internazionale in continua e rapida evoluzione. Il confronto che si è svolto nelle scorse settimane all'interno dell'UE, dopo un primo momento caratterizzato da ampie divergenze tra paesi e difficoltà a comprendere i rispettivi punti di vista e le diverse esigenze, si è caratterizzato per la sua rapida evoluzione e per la capacità dell'Unione di mettere in campo strumenti e politiche inimmaginabili sino a pochissimo tempo fa. Seppure mantenendo alcune differenze di fondo si è continuata a mediare e a cercare strade che permettesse all'Unione di essere all'altezza della sfida che tutti noi siamo chiamati a fronteggiare. Alla fine dei negoziati si è infatti trovato un primo punto di equilibrio grazie all'insistenza e all'azione coordinata e allungimenti di alcuni paesi tra i quali Italia, la Spagna e la Francia, tra i più duramente colpiti dall'epidemia, nonché alla indubbia azione di mediazione ma in senso propositivo e propulsivo della Commissione europea. Se per un verso si è evitato il predetto rischio di collasso dell'UE, per altro verso occorre ora attendere che gli orientamenti generici su cui si è concordati in occasione della videoconferenza dei componenti del Consiglio europeo del 23 aprile scorso, si traducano in proposte concrete da parte della Commissione europea, specie per quanto riguarda il cosiddetto recovery fund, di cui allo Stato non si conoscono compiutamente alcuni aspetti essenziali. Analogamente occorrerà attendere che le proposte della Commissione siano vagliate dagli Stati membri. Per quanto riguarda l'Italia mi limito in questa sede ad esprimere apprezzamento per i risultati sinora conseguiti dal Governo in questo difficile negoziato. E al contempo, come accennato, ritengo che non si debba cedere alla tentazione di adottare toni trionfalistici, poiché solo alla fine del processo saremo in grado di valutare gli spazi effettivi che saranno messi in campo a disposizione del nostro Paese per fronteggiare l'emergenza sotto il profilo economico e finanziario. Tenuto conto anche dei possibili margini per un ulteriore incremento dell'esposizione debitoria, oltre a quello per sparare dal DEF che deriverebbe dalla frizione di risorse sotto forma di prestiti. Il mio auspicio è che si continui a sollecitare la Commissione europea e i nostri partner per far prevalere soluzioni che non subordinano la disponibilità di risorse all'accensione di prestiti, ma che si traducano in finanziamenti diretti e che il recovery fund risulti adeguato nella sua dotazione alle dimensioni della gravità della situazione economica e sociale che dobbiamo affrontare. Perdonatemi, ma parlare con questa mascherina è veramente complesso. Prima di dare la parola al Ministro, intanto chiedo ai colleghi di iscriversi, così poi noi definiamo quanto tempo possiamo dare e do la parola al Ministro Amendola per il suo dibattito. Prego. Ringrazio i Presidenti Battelli e Grande, Liccheri e Petrocelli in collegamento e tutti voi membri delle Commissioni per questa opportunità che mi consente di fornire un quadro del dibattito europeo sulle conseguenze socio-economiche della pandemia, con particolare riguardo ai risultati del Consiglio europeo dello scorso 23 aprile. Come ho già avuto modo di sottolineare nei precedenti passaggi parlamentari, la crisi che stiamo attraversando è senza precedenti e richiede risposte urgenti da parte dell'Unione europea adeguate alla gravità della situazione con la quale ci stiamo confrontando. La crisi Covid è innanzitutto una crisi sanitaria, ma abbiamo avuto presente sin dall'inizio le inevitabili conseguenze socio-economiche, l'esigenza di individuare da subito le azioni di contrasto per limitare gli effetti negativi. È una crisi endogena, è simmetrica, non nasce nei mercati finanziari, ma ha pesanti effetti sull'economia reale che si manifestano anche purtroppo in modo asimmetrico nei vari Paesi europei. I suoi effetti sono sistemici su domanda e offerta e rischiano di frammentare il mercato unico e il funzionamento delle catene di valore europee che sono oggigiorno largamente interconnesse. Una profonda recessione in Europa sarà inevitabile quest'anno. La Commissione presenterà proprio il 7 maggio le proprie previsioni economiche e certamente indicherà una forte incontrazione del PIL, peggiore di quella che caratterizza la crisi finanziaria del 2008. Il PIL dell'Eurozona nel suo complesso calerà del 7,5 per poi salire del 4,7 nel 2021, secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale. Le previsioni negative sono condivise anche da maggiori e da larga parte degli esponenti, degli osservatori del mondo economico e prevedono un calo del PIL mondiale del 3% nel 2020, ovvero 6,3 punti percentuali rispetto alle stime di gennaio, con una ripresa nel 2021 pari al 4,8. Le stesse previsioni del DEF indicano un calo del PIL italiano nel 2020 pari all'8%, con un picco negativo nel secondo trimestre sopra il 10%, poi una ripresa nel terzo e nel quarto. I debiti pubblici nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea sono destinate a aumentare nel corso di questo anno per percentuali che vanno dai 10 ai 20 punti. In questo contesto il Consiglio europeo del 23 aprile ha dato un importante segnale verso il consolidamento di una risposta comune alla crisi. Permettetemi innanzitutto di riassumere brevemente i contenuti e la dichiarazione che il Presidente del Consiglio europeo, Michel, ha adottato dopo la riunione e che individua le seguenti priorità. Un approccio più ambizioso e solidale da realizzare in concreto con un Recovery Fund o Recovery Initiative e la predisposizione di tre reti di protezione, Fondo paneuropeo della BEI, Schema Sure della Commissione per il Sostegno a Strumenti Nazionali per la Lotta alla Disoccupazione, Pandemic Crisis Support nell'ambito della linea di credito precauzionale del meccanismo di stabilità europeo. Secondo, una visione di prospettiva. Per dare avvio alla fase 2, i leader hanno convenuto su una tabella di marcia comune verso la revoca delle misure di contenimento del Covid-19 così da coordinare il più possibile la progressiva e ordinata uscita delle misure straordinarie per tutti i Paesi. E terzo, l'adozione della tabella di marcia per la ripresa verso un'Europa più resiliente, sostenibile ed equa. Il Consiglio europeo del 23 aprile ha preso decisioni che sicuramente, viste anche le crisi del passato, sono da considerare senza precedenti, avviandosi verso un percorso nuovo su cui adesso è necessario lavorare con spirito di unità e solidarietà, sia a livello nazionale che europeo. È stato di fatto accolto e condiviso il punto sul quale il Governo italiano, insieme ad altri a partire da marzo, aveva sempre insistito. La necessità che l'Unione si attrezzasse per fronteggiare una grave sfida sanitaria è divenuta anche crisi economica e sociale di dimensioni impensabili prima dell'inizio della pandemia. Non era affatto scontato che in poche settimane fosse sul tavolo un'opzione mai esistita prima come la Recovery Initiative, uno strumento di politica fiscale europea basato su un principio di intervento finanziario comune. Gli Stati membri e le istituzioni europee hanno concordato sulla necessità di prevedere tale fondo ed hanno anche convenuto sul carattere necessario e urgente di questo strumento, come sempre richiesto ed emendato da parte italiana. Su queste premesse si tratta ora di attuare queste decisioni, si tratta di negoziare. Sarà un lavoro complesso e dovremo essere pragmatici e consapevoli che altri compromessi saranno inevitabili, tenendo a mente l'interesse nazionale e quello europeo, guardando agli sviluppi della pandemia e alle sue conseguenze. Mi preme dire che i risultati però di questo Consiglio europeo di aprile sono stati preceduti, mai dimenticarselo, da importanti iniziative assunte da Commissione europea BCE e BEI che hanno creato le condizioni per far fronte a una situazione che altrimenti sarebbe stata ben più drammatica. Cito le più importanti. L'aderogo al patto di stabilità, proposta alla Commissione adottata dall'Ecofin il 24 marzo con l'attivazione della Escape Close. la flessibilità accordata al regime degli aiuti di Stato, che hanno garantito più ampi margini di azione agli Stati membri per far fronte all'emergenza pandemica e alle sue conseguenze sulla tenuta del tessuto socio-economico. Uno scudo che ha fatto sì che alcune misure del decreto, legge cura Italia, legge liquidità, il decreto legge liquidità e quello che è in preparazione arriverà la prossima settimana, ha trovato un appoggio e un aggancio tecnico che permette anche qui politica espansiva a livello nazionale. Il 13 marzo inoltre è stata istituita l'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus, il cosiddetto CRI Plus poi seguita ed ampliata. Questo ha significato l'anticipo di 37 miliardi ancora disponibili nell'attuale bilancio sul Fondo europeo del sviluppo regionale e sul Fondo sociale europeo che le regioni e alcuni ministeri dovranno spendere entro il 2023. Non ultimo, la BCE già il 18 marzo ha avviato il cosiddetto Pandemic Emergency Purchase Program, un programma di acquisto straordinario di titoli per un ammontare supplementare di 750 miliardi di euro, eliminando anche i limiti di acquisto di titoli per ogni Paese emittente, portando complessivamente con i programmi già in vigore la capacità di intervento oltre i 1.100 miliardi di euro. Al di là dei limiti quantitativi di intervento, la BCE ha deciso altresì di rimuovere i vincoli relativi agli acquisti di titoli corretti in basso e al cosiddetto acquisto per capital key, ossì l'obbligo di acquistare titoli in proporzione al capitale detenuto dalla banca centrale di ogni Paese. A sua volta, all'incirca proporzionale al PIL. Proprio oggi, poche ore fa, la BCE ha annunciato come sia pronta ad aumentare le dimensioni di questo programma nella misura necessaria e per tutto il tempo necessario. Ritengo sia giusto sottolineare come queste misure, adottate da Commissione Europea, BCE e anche BEI, abbiano creato le condizioni per mettere in atto la prima linea di intervento, con una portata e una rapidità senza precedenti nella storia dell'Unione Europea, per far fronte a una situazione che altrimenti sarebbe stata ben più drammatica. Tutto in poche settimane a marzo. In questo contesto, il Consiglio europeo ha lavorato tra il 26 marzo fino a raggiungere l'accordo il 23 aprile per aprire nuove strade di negoziato e, accanto alla politica monetaria, alla politica della Commissione, definire una politica fiscale comune europea con strumenti nuovi. Noi abbiamo sostenuto sin dalle prime fasi della crisi la necessità proprio di un piano europeo per la ricostruzione. È stata ribadita questa nostra visione in occasione del Consiglio europeo del 26 marzo, in cui abbiamo rifiutato soluzioni all'epoca a ribasso, insistito sulla necessità di far prevalere una visione di lungo periodo e chiedendo che, accanto agli strumenti indicati precedentemente, si desse concretezza anche all'ipotesi del recovery fund. Vorrei qui brevemente soffermarmi sulle principali tappe di questo negoziato. In vista del citato Consiglio europeo del 26 marzo, da parte italiana è stata costruita un'alleanza insieme a altri otto Stati membri, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Slovenia, Belgio, Lussemburgo e Irlanda, con i quali abbiamo inviato una lettera congiunta al Presidente del Consiglio europeo. In sintesi abbiamo chiesto misure più ambiziose per creare uno, cito, strumento di debito comune di dimensioni sufficienti a lunga scadenza, adatto a garantire la disponibilità di risorse raccolte sui mercati. Questa è stata la proposta italiana del 26 marzo, messa sul tavolo dei negoziati in piena trasparenza. Su questa base, con la dichiarazione comune dei 26, il 26 marzo i 27 capi di Stato e di Governo hanno dato mandato all'Eurogruppo del 7 e 9 aprile di lavorare su più proposte. I commissari Gentiloni e Breton hanno pubblicamente sostenuto un'iniziativa per un Fondo europeo per la rinascita, espressamente concepito per emettere obbligazioni a lungo termine e con una governance che consentisse di evitare ogni moral hazard con l'obiettivo di mobilitare risorse per circa il 10% del PIL europeo pari a 1.500 miliardi di euro. L'Eurogruppo del 9 aprile ha adottato un rapporto con le proposte che i leader avrebbero discusso al Consiglio del 23 aprile. Tengo anche a citare il voto del Parlamento europeo nella sessione plenaria del 16 e 17 aprile che ha approvato una risoluzione non legislativa che chiede un massiccio pacchetto di investimenti per sostenere l'economia europea e l'istituzione di un fondo di solidarietà. Il Consiglio del 23 ha, come ho detto, aggiunto alle tre reti di sicurezza la Recovery Initiative. Le tre reti di sicurezza consistono in un pacchetto del valore di 540 miliardi di euro e saranno negoziati e rese operative entro il primo giugno 2020. Si tratta di un intervento a sostegno della liquidità da parte della BEI, la Banca Europea per gli Investimenti, attraverso la creazione di un fondo paneuropeo che, sulla base di una garanzia di 25 miliardi fornite dagli Stati, possa assicurare linee di credito, prestiti ponte, capitale circolante, mobilitando circa 200 miliardi di euro e offrendo alle imprese che vi faranno ricorso prestiti a tassi di interesse molto bassi. Secondo, la proposta della Commissione cosiddetta SURE in materia di sostegno a strumenti nazionali per la lotta alla disoccupazione. SURE è stato poi effettivamente adottato il 2 aprile sulla base dell'articolo 122.2 del Trattato del funzionamento dell'Unione Europea. Si tratta di un fondo europeo di sostegno a strumenti nazionali per la lotta alla disoccupazione, che dovrebbe essere finanziato con l'emissione di titoli di debito da parte della Commissione fino a 100 miliardi di euro, con una garanzia del 25% messa dagli Stati membri a fronte della scarsa disponibilità del bilancio dell'Unione Europea a fine del ciclo settennale. In base ai suoi criteri, il regolamento negoziato e sottonegoziato, una volta che verrà formalmente adottato, consentirà alla Commissione di raccogliere risorse sui mercati, emettendo bond con AAA, quindi a tassi bassissimi, vantaggio che verrà trasferito sugli Stati membri. Potenzialmente i tre principali beneficiari dello schema non possono accedere a più di 60 miliardi di euro e annualmente i pagamenti dell'Unione potranno raggiungere i 10 miliardi di euro. Terza linea. La possibilità di ricorrere alla Pandemic Crisis Support nell'ambito della linea di credito precauzionale del meccanismo europeo di stabilità. Sul meccanismo di stabilità la nostra posizione è stata ferma. Abbiamo sempre detto di no all'utilizzo dello strumento pensato nel 2012 per crisi asimmetriche di natura finanziaria, pertanto non adeguato alla crisi attuale. La linea di credito concordata dall'Eurogruppo indica chiaramente che l'unico requisito per accedere alla linea sarà che gli Stati membri dell'area euro che richiedono il sostegno si impegnano a utilizzare questa linea di credito per sostenere il finanziamento interno dei costi diretti e indiretti dell'assistenza sanitaria, della cura e della prevenzione dovute alla crisi Covid-19. Si tratta in altre parole di uno strumento facoltativo che i singoli Stati membri potranno eventualmente attivare. L'Eurogruppo, già dal prossimo 8 maggio, lavorerà per rendere compatibile questo impegno con le norme vigenti che prevedono una sorveglianza rafforzata della Commissione europea in base al Regolamento 472 del 2013, inutile nell'attuale situazione di crisi. Proprio oggi sia il Commissario Gentiloni che la portavoce e la Commissione hanno dichiarato come l'obiettivo sia quello di rendere compatibile la regolamentazione esistente citata con la decisione politica di Eurogruppo e Consiglio europeo, in modo che la linea di credito sia a disposizione di tutti con un'unica condizionalità, coerenza delle spese con gli obiettivi sanitari. Si va quindi in una direzione giusta, ma come ribadito al Presidente del Consiglio, vogliamo vedere per tutti e tre questi aspetti, queste reti di protezione e questa linea di credito, i dettagli della proposta quando verranno terminati per esprimere ogni valutazione completa. A fianco di il Consiglio europeo ha altresì deciso la creazione del Fondo per la Ripresa, il Recovery Fund, che sarà inserito nel quadro finanziario pluriannale e che insieme a quest'ultimo sarà orientato a controstare gli effetti della crisi. Inizialmente, come ad esempio previsto dalla proposta francese, il Recovery Plan era stato immaginato come un veicolo speciale, uno strumento ad hoc intergovernativo con un negoziato dagli esidi e le procedure però imprevedibili. L'inserimento invece nel quadro finanziario pluriannale 21-27 consente invece di rendere comunitario lo strumento e di far leva e far lavorare entrambi gli strumenti nella direzione della ripresa economica congiunta e coordinata tra i 27. Abbiamo insistito sul concetto che la crisi nasce come simmetrica e che senza un'azione condivisa proprio gli effetti dirompenti che tutte le previsioni si attendono rischiano di causare impatti asimmetrici che nessuno in Europa si può permettere. Mi par di notare che questo approccio, scegliendo una via negoziale degli strumenti comuni, le tre reti di protezione e uno strumento contro la recessione, è finalmente condiviso e scelta. Adesso toccherà negoziare e finalizzare tutti gli aspetti giuridici per liberare le risorse. Avrà inizio il negoziato sul bilancio 21-27 e il fondo per la ripresa ad esso collegato. In questo contesto ci sono tre aspetti della Recovery Initiative, del Recovery Fund che dovranno essere definiti e che rappresentano elementi determinanti per l'efficacia dello strumento. Uno, la sua dimensione, perché da parte nostra insisteremo perché la dotazione finanziaria dello strumento sia in linea con i suoi obiettivi e con la sfida con la quale ci troviamo a confrontarci. Secondo, la tempistica che dovrà in parte essere legata a quella del quadro finanziario pluriennale, che però come sapete entra in vigore nel gennaio del 2021 e quindi dovrà prevedere meccanismi, come si è discusso già al Consiglio del 23 aprile scorso, di meccanismi di anticipazione, bridging o front loading, come si dice in linguaggio tecnico, per rendere lo strumento operativo il prima possibile. La decisione sulla creazione dello strumento dovrà arrivare dal Consiglio europeo di giugno, che dovrà altresì prevedere il meccanismo per rendere operativa, come dicevo, il fondo per la ripresa prima del QFP attraverso il meccanismo degli anticipi. Terzo punto, la portata dell'intervento. Con una giusta combinazione di prestiti e sussidi, come ha presentato la Presidente Ursula von der Leyen, però chiaramente l'equilibrio tra prestiti e sovvenzioni dipenderà dall'impegno nazionale di tutti gli attori convolti. Riteniamo per parte nostra che questo sia un aspetto di particolare importanza, tenuto conto che evidentemente le sovvenzioni non inciderebbero sul debito dei singoli Paesi. La nostra priorità nel negoziato, insieme ad altri, sarà indirizzare il fondo in modo significativo verso sussidi e prestiti a lungo termine. La Commissione europea è stata incaricata di analizzare queste esigenze specifiche, ha avuto il mandato dal Consiglio europeo e di presentare con un'urgenza e una necessaria urgenza una proposta che dovrebbe chiarire anche il nesso tecnico-giuridico con il quadro finanziario pluriennale 21-27 e da ogni caso dovrà essere dotato di risorse adeguate ad affrontare le sfide che ci attendono. Appoggiamo questo approccio, un approccio di compromesso, purché corrisponda alle esigenze di rapidità, dimensioni e portata, perché, come dichiarato alla stessa Presidente Ursula von der Leyen in occasione della plenaria al Parlamento europeo del 16 aprile scorso, esiste già uno strumento, il bilancio europeo, che gode della fiducia di tutti gli Stati membri, è già attivo, è in grado di produrre velocemente risultati e trasparenti ed è uno strumento per la coesione e su questo strumento noi crediamo si possa introdurre innovazioni mai sperimentate prima, anche come la ricorsa, l'utilizzo e soprattutto l'attivazione di meccanismi per avere titoli a debito sul mercato che rendano questo bilancio e i suoi obiettivi sempre più forti. La Commissione intende infatti reperire le nuove risorse superando alcuni limiti autoimposti al bilancio europeo in tempi ordinari. Come detto, tecnicamente la Commissione farà ricorso al cosiddetto headroom, lo spazio di aggiustamento che l'Unione Europea si riserva di attivare se occorrono più spese. Attualmente questo spazio di aggiustamento calcolato sulla differenza tra volume del bilancio e massimale delle risorse proprie è pari allo 0,13% del reddito nazionale lordo, aumentando il massimale delle risorse proprie, ad esempio il 2%, altre ipotesi parlano del 2,5%, si genererebbe un volume teorico di risorse pari allo 0,93% del reddito nazionale lordo. Questo spazio di aggiustamento assicurerebbe una disponibilità finanziaria per centinaia di miliardi da mettere a garanzia dell'emissione di titoli a debito di bond da parte della Commissione europea. Si tratta in altre parole, e questo meccanismo sarà il centro ovviamente del negoziato, di aumentare il massimale delle risorse proprie e non lo stanziamento di impegno, come qualcuno sottolineava erroneamente nei giorni precedenti, senza l'obbligo, cioè di versamento effettivo di finanziamenti o un aumento di finanziamenti da parte degli Stati membri. Questo meccanismo crea una disponibilità finanziaria virtuale che genera a sua volta, attraverso l'effetto leva delle garanzie, risorse effettive di ammontare maggiore. La nuova proposta sul quadro finanziario pluriannale della Commissione europea dovrebbe inoltre introdurre nuovi programmi e rafforzare alcuni programmi esistenti, come ad esempio Horizon e InvestEU. In relazione agli aspetti relativi al negoziato specifico sul QFP, sottolineo in conclusione i seguenti punti. L'eccezionalità della situazione si rispecchi in modo adeguato nel prossimo bilancio. Per quanto riguarda le politiche di spesa esistenti, a cominciare dalla coesione e dalla PAC, il metodo di allocazione dei fondi tenga conto delle conseguenze della crisi, in modo che i finanziamenti europei possano avere una funzione anticiclica per le aree geografiche a cui i fondi sono destinati. E poi si eviti di porre ulteriormente sotto pressione le finanze pubbliche degli Stati membri, ricorrendo a maggiori cofinanziamenti europei per le principali politiche. Abbiamo chiesto inoltre, nell'apertura di questo negoziato, che ci porterà il Consiglio a giugno, che sia garantita la massima flessibilità, per quanto riguarda sia l'attuazione delle politiche, per esempio le politiche di spesa, sia gli strumenti speciali, e siano garantite nuove risorse proprie, che rivestono un ruolo cruciale in questa fase di crisi per allentare il peso del contributo nazionale al bilancio. Tutte le proposte della Commissione europea su quadro finanziario e recovery fund sono attese entro la metà di maggio. Tutte le proposte, tengo a sottolinearlo, sia le tre reti di protezione, sia il bilancio pluriennale con il fondo per la ripresa incluso, saranno ratificate a livello europeo solo dopo la valutazione e il consenso del Parlamento italiano, dei Parlamenti europei e dell'Europarlamento. La seconda area su cui è intervenuto il Consiglio europeo informale del 23 è la cosiddetta tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento di Covid-19, perché serve un approccio coordinato tra gli Stati anche nella cosiddetta Existrategi, anche per organizzare in maniera coordinata e mantenere i livelli di competitività interna nel mercato e soprattutto per avere tra i 27 un coordinamento sanitario, un coordinamento sulla protezione delle persone che sia persistente, evitando il pericolo di ricaduta dalla diffusione del virus. La terza area su cui è intervenuto il Consiglio europeo riguarda l'adozione di una tabella di marcia per la ripresa. La tabella significa avere quattro linee di intervento prioritario, un mercato unico pienamente funzionante, una capacità di azione a livello mondiale e soprattutto un sistema di investimenti senza precedenti proprio per reggere l'urto di questa crisi. Il mese di maggio, in conclusione, cari Presidenti e cari deputati, sarà impegnativo, sarà impegnativo anche per il Parlamento italiano in vista dei negoziati, perché servirà una trattativa serrata e forse altri compromessi saranno inevitabili, ma siamo di fronte a una strada nuova, una novità politica innegabile. Abbiamo scelto di dire ai mercati e ai competitor globale che i 27 vogliono unirsi, proteggersi a vicenda, utilizzare lo scudo della BCE, le regole nuove della Commissione in questa enorme recessione per questa crisi. L'obiettivo è ora quello di giungere a un sostegno sull'impostazione complessiva di questa architettura entro il Consiglio europeo di giugno, ma come ho detto sarà imprescindibile il lavoro delle Commissioni, l'analisi dei documenti, l'analisi di quelle che sono le proposte sul campo, perché in vista del Consiglio di giugno, sia in Italia sia a livello europeo, cresca una maturità, una condivisione e anche un cambiamento di quelle che sono le scelte fondamentali dell'Unione Europea. Grazie. Grazie al Ministro. Allora, io ho 12 iscritti a parlare, pensavo due minuti a testa. Prego, per iscriversi? Ah sì sì sì, no no, certo. Migliore? Ah ok, perfetto. Abbiamo già scritto, no? Sì sì. Qui due minuti a testa, inizia il Presidente Liccheri, Movimento 5 Stelle. Mi sentite? Allora, sì, non so se qui abbiamo raccolto le... Ah, ve le abbiamo già mandate. Sì. Sì sì, abbiamo aggiunto noi i nomi. Sì sì, ci abbiamo tutto. Sì sì. Prego, prego Presidente. No, no, non ci stiamo... Ah, hai fissato mio. Scusate, scusate, scusi, scusi Presidente Battelli, non capivo, non avevo sentito bene. Allora, sono degli spunti per una risposta del Ministro. Innanzitutto il concetto su spese collegate alla pandemia, quindi spese dirette o indirette. C'è una corrente di pensiero che si sta focalizzando su che cosa dobbiamo intendere per spese collegate alla pandemia, perché è evidente che su questo concetto poi gioca molto, almeno dal lato dell'impiego. Poi un'altra, così le dico tutte insieme, poi il Ministro troverà l'ordine per le risposte. Abbiamo sentito anche il Ministro Lemaire, francese, che dice che tra le spese indirette ci sono anche quelle di prevenzione del contagio tramite il lockdown. Questo concetto è stato in qualche modo esplicitato meglio in sede europea. Poi, terzo punto, il Fondo per la Transizione Digitale e il Green Deal, in qualche modo resta ancora una priorità o alla luce di quello che è accaduto, quindi dell'emergenza coronavirus, questi due temi adesso passano in secondo ordine perché la prima cosa da fare è forse quella di cercare di salvare le economie. Ultimo punto è poi quello che concerne l'UtriScore. In Commissione abbiamo notato che c'è un carteggio che sembra lasciare intendere che le trattative sono ancora in corso. Lì sappiamo che c'è una proposta francese, sappiamo che abbiamo anche noi una proposta che è una proposta italiana che mira naturalmente a tutelare meglio e di più i prodotti italiani con un NutriScore a batteria, cosiddetto a batteria e volevamo chiedere al Ministro se avesse delle informazioni o degli aggiornamenti in merito. Grazie. Grazie Presidente Liccheri, la collega Montaruli del gruppo Fratelli d'Italia. Due minuti. Grazie Presidente. Ministro Mendola, dopo il Consiglio europeo noi abbiamo assistito a un Presidente Conte inedito che in piedi, io ho pensato forse gli scappava la pipì, in 40 secondi ha detto che la fantastica novità del Consiglio europeo era questo recovery fund. Però ce lo chiarisca e dica la verità agli italiani, l'ipotesi del recovery fund non è una vittoria dell'Italia in seno del Consiglio europeo perché l'ipotesi remota, quando sarà, chissà con che soldi, vedremo come, era già contenuta al paragrafo 19 della bozza presentata dall'Eurogruppo e quindi al Consiglio europeo l'Italia non è uscita con nessuna vittoria, se non quella certa del MES che contenuta nella bozza dell'Eurogruppo è stata vagliata dal Consiglio europeo. Vuole chiarire agli italiani che questa è la verità, al contrario di quanto ha detto il Presidente Conte, nella conferenza stampa a cui ormai ci ha abituato in seno successivamente agli importanti consessi in seno europeo? Grazie, collega Montaruli. Il collega Fassino, il gruppo PD. Ringrazio il Ministro per la dettagliata e puntuale relazione. Condividendo l'impianto, i giudizi politici e gli apprezzamenti e anche le cautele laddove le ha evocate, le mie domande sono riferite al recovery fund. Una prima questione è i tempi, perché è evidente che la forza e l'efficacia del recovery fund sta in tempi stretti. Ora noi abbiamo letto ieri, poi smentita, una dichiarazione di una commissaria che ha ipotizzato l'avvio del recovery fund all'inizio del 2021, è evidente che questi sarebbero tempi troppo lunghi e quindi chiedo al Ministro da questo punto di vista quali sono le prospettive e comunque gli obiettivi che l'Italia si pone. Secondo, il recovery fund sarà garantito sul bilancio dell'Unione Europea. È evidente che se si vuole avere una mobilitazione di risorse, delle dimensioni che si sono indicate in queste settimane, 1300-1500 miliardi, quello che sarà, comunque oltre i 1000 miliardi, è evidente che questo significa un incremento del bilancio significativo. Ora il Ministro ha già spiegato come l'utilizzo di certi margini di scostamento possono consentire maggiore flessibilità anche dal punto di vista delle garanzie che il bilancio dovrebbe dare per il recovery fund. Mi chiedo se questo sia sufficiente o se proprio la decisione di dar vita al recovery fund non riapra una discussione, che peraltro non è ancora chiusa, sulle dimensioni del bilancio dell'Unione Europea. E infine, la terza questione è il rapporto tra a fondo perduto e a prestito. Credo anch'io che alla fine si andrà verso una soluzione mista. È evidente che quanto più la quota prestito sarà di lungo termine, tanto più le risorse del recovery fund saranno meglio sostenibili e più efficaci. Grazie. Grazie collega Fassino, il collega Urso del Gruppo Fratelli d'Italia. Faccio il giro tra Camera e Senato. Grazie. Innanzitutto voglio ringraziare anche una volta in questa occasione il Ministro Amendola della serietà delle risposte che dà al Parlamento, a differenza di altri, e dell'impegno sicuramente competente che mette. La mia domanda è molto specifica e del scenario. La Commissione Europea ha già autorizzato, superando ovviamente i vincoli di stabilità, i Paesi membri a utilizzare le proprie risorse. E queste risorse sono state già impiegate e dispiegate dai Paesi membri, così come non è la loro possibilità. Allo Stato sappiamo che su circa 1.800 miliardi già autorizzati, quasi 1.000 miliardi li sta utilizzando la Germania, il 55%. L'Italia può muovere molto poco, quasi nulla, meno del 10%. In questo enorme divario vi è tutto il problema europeo, che non è sufficientemente compreso, perché dalla tempistica che lei ci ha dato, al di là di poi accertare effettivamente come saranno dispiegati gli strumenti e quali condizioni essi avranno. In ogni caso questi strumenti europei non entreranno in vigore prima di giugno e forse luglio, e in alcuni casi addirittura si parla del 2021, quello più importante. Il che vuol dire che i primi strumenti europei saranno dispiegati dopo sei mesi dall'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia e poi il resto d'Europa. Sei mesi di assenza dell'Europa. E gli strumenti più significativi, se mai arriveranno, potrebbero arrivare addirittura a un anno dalla crisi. Nel frattempo, che forte si rafforza sempre di più, Germania e Paesi del Nord, e che debole si indebolisce troppo, si desertifica l'Italia ed altri Paesi del Sud. Questa simmetria tra la possibilità che gli Stati hanno avuto dalla Commissione europea di intervenire con le proprie risorse e la possibilità che l'Europa invece scende in campo, è tutto lì il problema italiano ed europeo. Come possiamo evitare che questa simmetria evidente a tutti soffochi il nostro Paese, aumentando il potere di forza delle imprese del Nord Europa, che approfitteranno dell'ulteriore debolezza italiana per colonizzarci. Grazie collega Urso e il collega Colaninno del gruppo Italia Viva. Prego. Grazie Presidente. Volevo ringraziare anch'io il Ministro Amendola per la sua presenza qui oggi e anche, vorrei dire, per il suo costante coinvolgimento delle nostre commissioni, che in ogni momento, a mio giudizio, ha prodotto risultati positivi per il coinvolgimento del Parlamento e anche positivi sul piano dei risultati che sono stati conseguiti negli ultimi vertici europei. La ricetta europea che è messa in campo per affrontare il presente, ma ancora di più, per la più complicata prospettiva dei prossimi mesi, è sul tavolo. È un mix di misure variegate, di cui sempre ci ha tenuto costantemente aggiornato il Ministro e da cui si è usciti nell'ultimo Consiglio europeo. A partire dalla ripresa su vasta scala delle politiche non convenzionali della Banca Centrale Europea, la sospensione dei vincoli del patto di stabilità e crescita e della disciplina degli aiuti di Stato e sono, non vi è dubbio, che queste misure già siano molto efficaci. Il mix di cui ha parlato, vado per titoli, SURE, Banca Europea degli investimenti, Recovery Fund, mi concentro su due questioni. La prima riguarda il meccanismo europeo di stabilità, il MES. Noi siamo di fronte ad una crisi la cui magnitudine e i cui riflessi sull'economia, sul lavoro, sulla produzione, sul sistema produttivo è una magnitudine profondissima. Per cui credo che il dibattito su uno strumento come il meccanismo europeo di stabilità, così come tutte le altre fonti, debba avvenire senza pregiudizi, in piena trasparenza e vedendo oggettivamente di non accantonare frettolosamente opzioni di usufruire risorse pari al 2% del PIL. Vado a concludere. Vedremo la natura giuridica del meccanismo europeo di stabilità e se, come sembra, come pare, non ci saranno condizionalità o condizionalità light, è impensabile rifiutare qualsiasi tipo di risorsa. Ultimo tema, il recovery found, il cui riconoscimento rappresenta, a mio avviso, una conquista enorme per l'Unione. Una conquista che fino ad oggi era stata lontana da ogni tipo di discussione. Grazie. Grazie, collega Colaninno e il collega Valentini del gruppo Forza Italia. Ringrazio anche il Ministro per la sua attività, il suo lavoro e la sua presenza costante nelle commissioni. Brevemente alcuni punti chiave del suo intervento che possono aiutarci a inquadrare il dibattito. La prima è simmetria. La crisi, tutti dicono, è stata simmetrica, nel senso che ha colpito tutti, ma è ovviamente asimmetrica negli effetti, in quanto ciascuno dei Paesi si trova in condizioni diverse e diversamente risponde alla crisi che ha colpito tutti. Il secondo aspetto, la seconda parola chiave è compromesso. L'Europa è compromesso. La storia dell'Europa è un compromesso continuo e a volte il compromesso è anche ambiguità. Dobbiamo sapere cogliere, come Paese, come Italia, all'interno di questo compromesso e saper giocare in maniera tale che anche sulle ambiguità si riesca a ottenere il nostro risultato. Il terzo punto sul quale volevo parlare è l'aspetto del debito. Noi dobbiamo fare credere agli italiani che ci possa essere una sostituzione del debito nazionale con debito europeo. Questo si legge tra le righe. Può essere serpeggia. È un errore, per questo non avverrà mai. In realtà la mutualizzazione del debito sta già avvenendo. La Banca Centrale Europea interviene con 100 miliardi al mese, 1000 miliardi all'anno, 2700 miliardi che si aggiungono ai 1000 miliardi. Arriveremo al 36% del GDP, del PIL europeo. Questo è il volume del bilancio della Banca Centrale Europea, con la quale ha steso uno scudo che ha consentito al nostro Paese, che si trova adesso downgrade da Fitch a livello quasi di junk bond, risparmiato dalle altre due società di rating perché esiste lo scudo della Banca Centrale Europea. Questo ci dice che la mutualizzazione sta già avvenendo e dobbiamo continuare a lavorare in Europa affinché non soltanto gli effetti di questo scudo siano permanenti, consentendo ancora maggiore flessibilità. Perché, signori, la Banca Centrale Europea a un punto dovrà acquistare anche junk bonds, che in questo caso potrebbero essere anche il rating dei titoli di Stato italiani. Per cui, vado a chiudere, io sostengo lo governo nella sua azione, non ritengo che sia necessario fare una battaglia per dire questo l'ho pensato io, l'ha scelto l'altro, dobbiamo essere concreti, razionali. Attenzione però, perché quando parliamo di recovery fund vediamo l'errore classico dell'Europa, si parla di un'enorme leva, i soldi in sostanza sono pochi, vendiamo agli italiani che arrivano fiumi di miliardi dove in realtà riallochiamo delle poste e diciamo con l'effetto leva ogni volta che andiamo dentro vediamo che un 10% del 100%. Attenzione perché i successi che possiamo registrare si possono trasformare gli insuccessi per l'Europa e per il disegno europeo. Grazie. Grazie collega. Il collega Casini del gruppo Partito Democratico. No, Candiani, mi scusa. Scusate, Candiani, Candiani. Ho letto male. Collega Candiani. Su Candiani sono d'accordo, sul Partito Democratico aggiusterei un po' il colpo. No, Candiani gruppo Lega. Va bene. Ministro, quando c'è casino c'è sempre casino. Presidente, Ministro, sulla questione Unione Europea noi dobbiamo essere molto obiettivi e in effetti il Presidente della Commissione poco fa nella sua introduzione ha usato un'espressione che è abbastanza esaustiva. Quando ha detto che l'Unione Europea ha aiutato come meglio può. Ecco, attenzione, dire aiutato come meglio può rispetto al whatever it takes c'è una differenza abissale. Perché un conto è accontentarsi perché di più non si può fare, un conto è mettere in campo tutte le risorse che servono e occorrono per affrontare una situazione. Ci sono delle questioni sulle quali bisogna essere trasparenti, limpidi. Sulla questione MES non parlerò e non chiederò nulla riguardo alle cosiddette condizionalità. Conosciamo, se non ci sono altre questioni che sono state tenute riservate, conosciamo qual è la condizionalità che è stata posta. Ma la questione oggi si sposta invece sulla vigilanza rafforzata. Su questa vigilanza rafforzata il Governo deve fare chiarezza su qual è il tipo di interlocuzione trattativa o accordo che si sta andando a chiudere. Perché vigilanza rafforzata rispetto a condizionalità la differenza può essere più semantica che di sostanza. C'è una questione poi che va affrontata in maniera molto esplicita perché è stato letto anche dal collega che è intervenuto precedentemente. Sì, questa epidemia ha prodotto degli effetti simmetrici, è simmetrica nel suo distendersi sul territorio europeo, è asimmetrica rispetto agli effetti economici che produce sul territorio europeo. Ci sono delle politiche che possiamo giudicare in maniera differente, qualcuno le giudicherà ottime, qualcuno meno buone, qualcuno le giudicherà scarse o scadenti, che l'Unione Europea ha varato prima della crisi coronavirus. Mi spiego, Green Deal piuttosto che digitale o quello che è già stato accennato prima Nutri-Score, sono elementi che producono indubbiamente degli effetti significativi sulla nostra economia. Le pongo un esempio. Nel momento in cui si parla di New Deal, in questo momento se non vengono modificate i prospetti europei, all'Europa dell'Est spettano 2 miliardi alla Germania e 3.364 milioni per l'Italia. Ora è evidente che c'è una sperequazione significativa e la stessa Commissione Europea stima che il piano mobiliterà mille miliardi, ma ad oggi il fondo di transizione può contare solo su 7 miliardi e mezzo. Attenzione, questi fondi per di più sono presi dal Feser. Occhio che se si tolgono fondi dal Feser e si passano poi al Green Deal, sapendo che la Germania su questo ci fa un conto molto importante per andare a convertire tutto quello che è l'impresa del carbone, l'industria del carbone, noi finiamo che non abbiamo le risorse per mettere in sicurezza le nostre scuole, banalizzo, ma ci siamo capiti, e dall'altra parte hanno risorse significative per avere anche un vantaggio competitivo poi dal punto di vista del prodotto della loro industria. Su queste cose quello che chiediamo e su cui voglio avere certezza da parte del Ministro è che sia chiaro che le regole di prima non possono essere le stesse di oggi, perché è cambiata la situazione che si tratti di Green Deal, che si tratti di digitale o che si tratti di Nutri-Score. Altrimenti, Presidente, temo andremo incontro ancora notevoli delusioni e preoccupanti reazioni ovviamente da parte dei nostri produttori che in questo momento sono oggettivamente in grave difficoltà. Grazie, collega. Collega Lupi del gruppo misto, prego. Grazie, Presidente. Anch'io faccio i ringraziamenti non formali al Ministro e pongo due domande. La prima riguarda anche alle dichiarazioni di oggi della conferenza del Presidente della Bicella Guard in tema di acquisti dei nostri titoli di Stato. Sappiamo quanto sono importanti e è inutile girarci attorno con il debito pubblico che abbiamo in una situazione come questa. La Borsa oggi sta dando segnali di grande nervosismo proprio per riguardo alla non chiarezza. Fitch ha downgradato l'Italia, siamo vicini almeno a titoli spazzatura o junk, come ha detto il collega Valentino Valentini, quindi io chiederei su questo qual è il lavoro che stiamo facendo, non la nostra posizione, ma il lavoro che stiamo facendo non perché abbiamo paura di essere downgradati ma perché per noi l'acquisto di titoli di Stati della Bicella in un momento come questo è fondamentale, cioè altrimenti oggi lo spread non sarebbe al livello che ancora comunque riusciamo a contenere. La seconda domanda è sul tema degli aiuti di Stato e cioè superata la questione degli aiuti di Stato vorrei chiedere se esiste un criterio per la restituzione sul tema della liquidità delle imprese. La domanda è molto specifica perché in Commissione Bilancio c'è stato detto dal Ministro dell'Economia che sono stati stabiliti sei anni massimo per la restituzione dei prestiti alle imprese, ma abbiamo visto invece che la Germania nella sua operazione ha fatto restituzione in dieci anni. Oggi il Presidente di Confindustria chiede dieci, quindici anni per la liquidità alle imprese, è evidente che anche su questo non è una domanda polemica ma positiva, cioè io credo che su queste cose è da fare battaglia insieme, cioè nel momento in cui si supera e concludo la questione degli aiuti, cioè che in questo momento dare liquidità alle imprese tutte non sia aiuti di Stato non possono sindacare sulla modalità con cui questa restituzione avviene, perché se sono sei anni è inutile, non raggiunge lo scopo, se iniziano ad essere quindici anni in una drammatica situazione come quella che stiamo vivendo ci permette di dare respiro alle nostre imprese come tra l'altro sta facendo la Germania. Quindi se lei come sempre puntuale mi dà risposte su questo ci aiuterebbe credo maggioranza e opposizione a fare il suo dovere. Grazie. Grazie collega Lupi, ora la parola al presidente Boldrini e si prepara il presidente Casini dopo. Sì, grazie signor presidente, io vorrei ringraziare il ministro Mendola per averci illustrato la posizione appunto del nostro governo e tutti i passaggi che le istituzioni hanno fatto finora. Il ministro più volte ha usato l'espressione senza precedenti e ha ragione il ministro a dire che nel giro di un mese sono state prese più misure che nel giro di vent'anni probabilmente. Quindi siamo di fronte a una situazione senza precedenti. Le istituzioni europee hanno colto la gravità del momento che viviamo e il ministro ha elencato di fatto gli strumenti che le istituzioni europee hanno messo in campo, da Shure al MES, il BEI, la BCE e il fatto che siano caduti dei tabù come il patto di stabilità e anche gli aiuti di Stato alle imprese. Ora ci sono stati degli ostacoli, è vero, ce ne saranno altri, ma qui dobbiamo essere chiari con l'opinione pubblica e dunque bisogna chiarirlo anche in questa sede. Gli ostacoli sono stati posti non dalle istituzioni europee, bensì da alcuni Stati membri governati da assetti conservatori e che non riescono a cogliere un punto fondamentale che in questo momento o ci si salva tutti o non si salva più l'Unione Europea e dunque non si salva nessuno. Ecco, allora bisogna far chiarezza perché invece noi di fronte a un'opposizione che ogni giorno ci affligge con una prospettiva, diciamo del tutto creativa in merito all'Europa, noi dobbiamo far chiarezza con i nostri cittadini e cittadine. Non abbiamo un'opposizione che qui dice, signor Primo Ministro, da questo momento non c'è più un'opposizione ma c'è una collaborazione. Non ci dice neanche l'opposizione, signor Primo Ministro, conti su di noi. E' per questo che è importante che si faccia chiarezza rispetto a quello che è stato fatto. Quindi la mia domanda al Ministro è questa riguardo al bilancio pluriannale, signor Ministro, al quale andrà ancorato immagino il recovery plan, il recovery plan of action. Vorrei capire quale posizione hanno gli stati membri su questo? Perché è importante immagino avere un bilancio rafforzato e poi se ci può dire qualche altra cosa sul social pillar, perché io penso che il social pillar date le conseguenze sociali di questo virus, che sono economiche e sono dunque sociali, sarà importante rafforzarlo come invece mi sembrava non fosse il caso prima della crisi negli scambi tra gli stati membri. Grazie. Grazie, grazie Presidente. Presidente Casini, prego. Vedo che siamo monotoni ma anch'io devo dire che il Ministro Amendola veramente sta facendo un lavoro ottimo e penso che sia bello che sia maggioranza opposizione, gliene diamo tutti atto per l'equilibrio, la serietà e la competenza con cui segue questo problema. Io penso che siano anche importanti alcune affermazioni che abbiamo sentito, come quello del collega Valentini, perché bisogna avere la consapevolezza che al di là delle visioni politiche diverse, oggi l'Europa ci sta tenendo a galla, se no purtroppo saremo già affondati. È ovvio che sul recovery fund i tempi, i modi, le clausole sono fondamentali per dare un giudizio di sostanza, però io voglio porre all'attenzione del Ministro solo un problema, cioè il tema della similitudine delle regole che si dà in alcuni settori nei singoli paesi europei. Faccio un esempio concreto che è quello per noi vitale del turismo. Se le regole sul tema del turismo, della mobilità dei flussi turistici e delle persone, delle aperture e delle chiusure, se c'è difformità tra paesi analoghi come Francia, Italia, Spagna e se il tema della mobilità non è governato da uno stesso criterio, noi andremo al disastro di un settore che per l'Italia è fondamentale e che, per ragione di distanziamento sociale ed altre ragioni, è già il più penalizzato. Per cui io chiedo che il governo italiano e il Ministro in particolare si possa concentrare con i suoi colleghi di altri paesi, perché poi è interesse di tutti far rilanciare il turismo sulla base di una regola che si dà genericamente, uguale a tutti i paesi europei, si concentri su questo perché per noi è fondamentale. Grazie. Grazie. La collega Galizia, prego. Grazie Presidente. Anch'io voglio ringraziare il Ministro Amendola perché ci ha illustrato in maniera molto dettagliata tutto il lavoro che si sta facendo e anche bene. Io sono molto fiduciosa in questa Europa e sui fondi che si stanno mettendo a disposizione per questa crisi. Tuttavia, dobbiamo però porci alcune domande. È evidente che l'Europa era già davanti a un bivio, che era quella appunto di evolversi o di disintegrarsi, come ha già detto il Presidente Battelli, ha già su altre due tematiche, come la questione immigrazione e la questione dumping fiscale e paradisi fiscali, perché questi due argomenti non possono essere trascurati neanche in questo momento così delicato. E allora, sulla questione migrazione, la Commissione Europea per gli Affari Interni, due giorni fa, ha dichiarato che sta portando avanti una riforma delle norme dell'Unione Europea in materia di migrazione, asilo, e che potrebbe addirittura accelerare questa proposta, portandola il prima possibile, insomma, al vaglio per poter così avviare... scusate la vischerina, riesco a respirare... al vaglio così, in modo tale da poter accelerare quelle che sono le ricollocazioni e il risediamento e il rimpatto degli immigrati. Quindi c'è stata già un'apertura su questo tema e, tra l'altro, già il 16 aprile si sono date delle interpretazioni un po' più flessibili di quelle che sono le regole per quanto riguarda l'immigrazione, mentre per quanto riguarda il dumping fiscale al momento non si muove una foglia. E questo è molto grave, anche leggendo quello che è stato l'ultimo rapporto presentato giusto il 28 aprile 2020 dal Tax Justice Network, in cui si evidenzia come effettivamente quanto ci costa questo dumping fiscale anche all'interno dell'Unione Europea e quanto costa l'Europa. Ci costa ben 25... tra i 25 e i 30 miliardi di euro all'anno, questo sono i costi diretti, ma può arrivare fino addirittura a 75 miliardi di euro, calcolando anche le perdite indirette. Già Moscovici aveva definito questi come dei buchi neri, non semplicemente un paradisi fiscale, ma proprio buchi neri fiscali. E questo ovviamente ci pone nella difficoltà di dover intervenire anche su questi temi. Io le volevo chiedere, signor Ministro, se ci sono dei margini di discussione e di intervento nei tavoli istituzionali europei per adottare misure di contrasto a quella che è l'allusione del dumping fiscale all'interno dell'Unione, a vantaggio di tutti i stati dell'Unione Europea attraverso una politica fiscale comune che ne combatta gli effetti distorsivi. Grazie. Grazie, collega Galizia. Il collega Del Mastro, prego. Grazie, Presidente. Anch'io mi associo evidentemente ai ringraziamenti al Ministro per la sua disponibilità relazionale, per il garbo e la plomb istituzionale che però non mi impedirà di rilevare alcune critiche al suo discorso. Se la crisi prevede risposte urgenti, come ha detto il Ministro, credo che vi sia poco da essere entusiastici in ordine all'atteggiamento in questo momento dell'Europa proprio sul recovery fund. Non si sa quando interverrà, non si sa in che misura interverrà, non si sa come si finanzierà, perché a differenza di quello che ci ha detto lei oggi, Ministro, la Merkel non è assolutamente convinta che non si debba finanziare con i contributi degli Stati membri. E così è scritto nel documento che ci avete consegnato oggi, datato 29 aprile della Camera. E ancora, non si sa come interverrà, metterà liquidità diretta o sarà la solita leva finanziaria e quindi avrà un effetto che sarà un decimo di quello previsto. Insomma, con Pietro Metastasio potremmo dire che il recovery fund è come la roba fenice, che vi sia ciascuno lo dice, ovi sia nessuno lo sa, meno di tutti lei purtroppo non ne ha le colpe, però dovrebbe essere un po' meno entusiasta. In verità cosa rimane, cosa residua oltre alle chiacchiere degli strumenti messi in campo da Bruxelles? Il MES. Il MES per il quale lei oggi ci ha ripetuto come un mantra, non vi sono requisiti di accesso, cercando di confondere le acque e intorpidirle, perché che non vi siano requisiti di accesso è evidente, che non vi siano condizionalità non è scritto da nessuna parte. Allora la domanda di Fratelli d'Italia è A. Ci sono o non ci sono condizionalità? B. Aderiamo o non aderiamo al MES? Nella risposta le chiederei, la cortesia, di spiegarmi qualora mi volesse raccontare che non ci sono condizionalità. Per quale motivo? Il MES ha due linee di credito, una con condizionalità, gli ECCL, una senza condizionalità, i PCCL. Per quale motivo? In tutti i documenti, anche quello che ci avete consegnato voi oggi, si dice che il MES che si utilizzerà sarà basato sulle esistenti linee di credito ECCL, cioè quelle che prevedono le condizionalità. Dovete fare finalmente chiarezza, che siano light o non light, lo vedremo dopo, ognuno avrà il suo metro per misurare cosa voglia dire light o non light, dobbiamo sapere se ci sono o non ci sono le condizionalità. Grazie collega Del Mastro. Il collega Lucidi, prego. Sì, grazie Presidente. Ormai è evidente perché il tono degli interventi di questo pomeriggio mi sembrano tutti abbastanza chiari. C'è una parola che è stata pronunciata anche dal Presidente Liceri in televisione qualche giorno fa che è incertezza. Sostanzialmente contro questa pandemia, che al contrario di quello che ha affermato il Presidente Conte poco fa in aula, dicendo che è un fenomeno assolutamente imprevedibile, è peggio del terremoto, invece noi diciamo è vero questo se il piano pandemico nazionale è fermo al 2007, ma era uno strumento che sarebbe stato molto utile invece di tenere aggiornato, c'è una grande incertezza e soprattutto abbiamo scoperto che il Recovery Fund non esiste, perché questo è il dato di fatto, quello che era stato decantato come vittoria in effetti non esiste, ma abbiamo scoperto anche nelle ultime ore che anche il MES in realtà non esiste, cioè noi abbiamo aderito, perché abbiamo aderito al MES, perché fa parte del pacchetto, ma il Presidente Liceri l'altro giorno in televisione ha detto che non sappiamo nulla su quali saranno i parametri di accesso, quindi anche questo strumento non esiste, quindi noi stiamo offrendo all'Italia una vittoria e degli strumenti che non esistono e in questo modo noi pensiamo di fornire le risposte con una parola che sta, diciamo, richeggiando in queste ore, in questi giorni, che è una parola bellissima, ma bisognerà trovare le sostanze, che è miliardi, perché non so se ci avete fatto caso, cari colleghi, ma da qualche giorno l'unità di misura economica europea è miliardi, miliardi qui, miliardi lì, miliardi di là, ma la mia memoria va a qualche mese fa, alla scorsa legge del bilancio, se uno di noi senatori modestamente avesse voluto fare una proposta piccola per il suo territorio, qualche neanche milione di euro, qualche centinaia di migliaia di euro non avrebbe portato a casa nulla, perché quei soldi non ci sono, io ho parlato ieri con un funzionario bancario, ho detto noi quei 25 mila euro, a chi non è assolutamente in riga con tutti i parametri bancari non li daremo mai, quindi che cosa cambia rispetto a prima, è una garanzia che in questo momento è tutto fuorché una garanzia. Vengo alla proposta e alla domanda, la prima è quando il governo, il ministro può farsene carico, se e quando avrà intenzione di venire in Parlamento per farsi dare un mandato chiaro su punti precisi, su numeri certi, per far esprimere il Parlamento con un voto e per dare al Presidente del Consiglio e ai ministri delegati, quindi in caso anche lei, per avere appunto un mandato chiaro, un mandato parlamentare, quindi un mandato dei cittadini italiani e questa è la domanda. E poi faccio una considerazione generale, abbiamo detto che non ci sarà ricorso al MES, il Presidente Liccheri ha detto in televisione che il MES è uno strumento da rifiutare completamente perché è uno strumento non sostenibile, ma io faccio una considerazione generale, che Unione Europea è quella in cui uno Stato come l'Italia aderisce al MES e fa sì che ci sia uno strumento utilizzabile dagli altri Paesi della Comunità Europea, però lo giudica come una schifezza? Questa secondo me non è una Comunità Europea, tutti quanti avremmo dovuto dire che nessun Paese europeo dovrà ricorrere al MES perché è uno strumento che non è sostenibile per nessun Paese europeo. Secondo me questo è un senso di Comunità Europea e è questo il vero senso di Comunità alla quale dovremmo tendere. Grazie. Grazie collega. Il collega De Luca, prego. Presidente, grazie. Mi associo ovviamente anch'io ai ringraziamenti al Ministro Amendola per la cortesia e la competenza con la quale riferisce ormai costantemente in questa Commissione e quindi al Parlamento. Noi abbiamo fatto, condivido la ricostruzione del Ministro, dei passi avanti enormi, da gigante in questi giorni. Siamo stati in grado, il Governo e il gruppo del Partito Democratico all'interno del Governo, di lavorare in Europa per ottenere strumenti straordinari, inediti, non convenzionali, in grado di rispondere a una crisi inedita, straordinaria e non convenzionale. L'Europa, le istituzioni europee hanno risposto in modo giusto, efficace e responsabile. E come è stato ricordato da Sassoli, al Presidente Sassoli, dal Commissario Gentiloni, l'Unione ha corretto gli egoismi nazionali e noi siamo stati in grado di mettere in campo in questi 20 giorni strumenti a ottenere risultati più importanti di quanti non ne abbiamo ottenuti negli ultimi 20 anni. Questo è il dato di fatto e grazie in particolare al lavoro del Governo italiano. Se avessimo dato retta a chi per anni ha offeso l'Europa, la Commissione, a chi ha chiesto per anni di uscire dall'Euro, oggi avremmo meno sovranità di quella che abbiamo oggi. Oggi saremmo semplicemente soli, isolati, in grande affanno e in difficoltà enorme a gestire una crisi che ci avrebbe costretto probabilmente allora sia a mettere le mani nelle tasche italiane e ci avrebbe reso impossibile adottare le misure interne nazionali che il Governo ha già adottato in parte finora con lo scostamento di bilancio a 25 miliardi di euro e si appresta ad adottare a seguito del nuovo scostamento di bilancio a 55 miliardi di euro. Che cosa è stato adottato in Europa? Il Ministro ha ricordato in modo preciso ed esaustivo modifiche straordinarie al patto di stabilità. Cade questo tabù. Modifica le norme, il Temporary Framework sugli aiuti di Stati che stanno consentendo di dare liquidità alle imprese con garanzia al 100% fino a 800 mila euro, per prestiti fino a 800 mila euro anche da noi in Italia. E tutela soprattutto ombrello protettivo della BCE che con un pacchetto massiccio di acquisti di titoli del debito pubblico europeo fino a 1.120 miliardi di euro sta consentendo di stabilizzare il nostro sistema finanziario nazionale. Anche in una fase estremamente delicata è sensibile metterlo a riparo da rischi di speculazione finanziaria. Questo è quanto sta accadendo finora. La Commissione ha adottato misure da un fondo a 37 miliardi di euro, ha riattribuito all'Italia 11 miliardi di euro di fondi strutturali che rischiavamo di dover restituire a Bruxelles e che possiamo spendere ancora nei prossimi mesi, ha approntato il piano SURE per sostenere la cassa integrazione europea, programmi BEI in grado di mobilitare fino a 200 miliardi di euro per liquidità e investimenti alle piccole e medie imprese. MES, su cui ancora oggi purtroppo sono costretto a smentire alcune inesattezze che ho ascoltato nel dibattito. Uno, il MES non è stato firmato in Consiglio europeo. È stata approvata la possibilità di utilizzare 240 miliardi di euro per spese e investimenti sanitari, senza vincoli, senza condizionalità e senza la troica, se vogliamo essere sintetici per chiarezza nel dibattito. Questo è stato approntato come piano e programma dall'Eurogruppo e approvato dal Consiglio. Non è stato firmato oggi il MES, ricordiamolo ancora una volta a scanso di equivoci. E non esiste ancora quella famosa linea PCCL citata dal collega. Quella era la riforma del MES che sarebbe dovuta stabilire, che avrebbe previsto una linea senza un memorandum of understanding ma con una semplice lettera di intenti. Quella riforma ancora non è stata definitivamente firmata e non è ancora entrata in vigore. Per questo si fa riferimento all'unica linea di programma di finanziamento che è l'ECCL, se vogliamo entrare nel dettaglio tecnico. Allora, il Governo sta lavorando bene. Io, a nome del Partito Democratico, sosteniamo la battaglia che sta facendo per avere risorse da poter utilizzare per quanto riguarda il MES per dare spese e investimenti sanitari, senza vincoli e senza condizionalità. E credo che il Ministro Amendola sta facendo questa battaglia insieme al Governo in Europa. e sul Recovery Fund, che è la grande rivoluzione e novità, condividiamo l'esigenza di una grande battaglia nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per una dimensione adeguata, una portata adeguata, perché siano previste risorse da assegnare non solo come prestiti ma anche come sussidi e per la rapidità dell'assegnazione di queste risorse. L'ultimo spunto, e chiudo, invitiamo ovviamente il Governo, ma è il lavoro che dovremmo fare per semplificare anche le norme, le procedure, le regole interne che ci consentono di utilizzare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, al meglio le risorse europee. E stiamo facendo una grande battaglia se riusciremo a superare questa fase di emergenza e anche e soprattutto grazie al lavoro che il Governo sta facendo in Europa. Grazie. Grazie De Luca. Il collega migliore è l'ultimo intervento. Grazie signor Presidente. Vorrei solo brevemente fare alcune considerazioni associandomi innanzitutto anch'io al ringraziamento nei confronti del Ministro Amendola, che mi pare abbia inquadrato bene il problema anche e anche evidenziando quelle che sono state le difficoltà di un negoziato che ha visto di volta in volta alcuni dei Paesi essere parte del problema o parte della soluzione. Io penso che noi dobbiamo schierarci più decisamente nell'essere parte della soluzione anche superando quelli che sono dei vizi che appartengono a questa fase della nostra discussione politica di non avere mai un inquadramento a lungo termine. In questo momento noi abbiamo non solo bisogno di un'Europa più forte che sappia anche avere una prospettiva, quella per esempio dei Recovery Fund è sicuramente una di queste, ma che sappia realmente come Paese costruire le condizioni perché gli strumenti che sono stati messi a disposizione vengano tutti attivati. Lo dico al Presidente Liccheri, che mi permetto di interloquire con lui anche vista la conoscenza che abbiamo da tanto tempo. Noi se abbiamo la possibilità di spenderli per l'assistenza sanitaria e ciò che è correlato ai danni generati dall'emergenza Covid-19, non possiamo che essere contenti relativamente ai fondi che a bassissimo tasso di interesse vengono erogati dal MES. Questo è l'elemento sul quale bisogna giocare, altro che chiedere che ci specifichino con estrema esattezza quali sono gli effetti. Gli effetti della condizione che dobbiamo vivere a seguito dell'emergenza coronavirus dovranno essere ancora tutti mappati ed è per questo motivo che rinunciare a prioristicamente, per una questione che io capisco i partiti che ne hanno fatto una questione di propaganda, a una linea di finanziamento senza condizionalità perché anche quello che è stato scritto oggi su alcuni quotidiani non è corretto perché non viene prevista nessun aggiustamento strutturale e quindi una condizionalità che potrebbe far intervenire soggetti esterni a controllare anche la nostra spesa pubblica e a contenere il debito non c'è. Quindi io auspico che questo governo dia un indirizzo chiaro a quelli che sono stati anche gli sforzi negoziali a partire da quello che ha fatto il Ministro Gualtieri e si eviti la disastrosa prospettiva di entrare in una condizione tutta di breve periodo e soprattutto tutta ripiegata nel dibattito interno. Noi in questo momento stiamo programmando quello che succederà nei prossimi vent'anni. Grazie colleghi per gli interventi. Io do la parola al Ministro per la replica. Prego. Per quanto riguarda il Presidente Liccheri, sul MES dico dopo, sulle priorità dell'agenda strategica Green Deal e Fondo per la Transizione Digitale confermo che è una priorità che rimane della Commissione e anche del Governo italiano che nella programmazione dei prossimi interventi per la ripresa, al di là ovvio delle priorità che sono il sostegno alla liquidità, all'economia italiana, come visioni su un'economia sostenibile e su un'economia che sia anche digitale manterrà i suoi impegni. Per quanto riguarda il Nutri-Score, l'Italia ha consegnato il 27 gennaio il Nutri-Inform Battery, che è la nostra proposta contrapposta alla Nutri-Score. La Commissione ancora non è in una fase decisionale. Stiamo lavorando anche con i gruppi parlamentari al Parlamento europeo proprio per difendere la nostra proposta che ci sembra più adeguata. Alla deputata Montaroli. Lei mi pone un tema che non è esatto perché a me non interessa chi ha il copyright di Recovery Fund. Onestamente facessero a sorte. Alcuni dicono Gentiloni, Breton e l'articolo del Corriere, altri la proposta francese. Però guardiamo un attimo con attenzione le date. Il 26 marzo il Consiglio europeo si conclude senza un accordo. Il 9 aprile si dà mandato all'Eurogruppo di presentare delle proposte. Il 25 marzo noi abbiamo fatto una lettera insieme a altri paesi, la Francia e la Spagna, proprio per costruire questo strumento che ovviamente si alimentasse con titoli a debito sul mercato, cioè con i cosiddetti bond. So che è una parola non molto usata, però la uso io. E noi siamo arrivati dal 26 marzo, che era uno statement del Consiglio senza soluzioni, al 23 aprile con uno statement che parla di Recovery Fund. Io so che in un mese magari sembra per alcuni colleghi un tempo enorme. Andiamoci a vedere però le cronache della crisi finanziaria di anni fa. Passato dalla dichiarazione di Deville, di Sarkozy-Merkel del credo che fosse ottobre 2010, siamo arrivati che la soluzione fu trovata con la famosa frase di Mario Draghi nel settembre del 2012. Passarono due anni, la Commissione Barroso non esercitò nessun ruolo. I governi esercitarono un ruolo nel spostare la crisi finanziaria sui debiti sovrani di alcuni paesi, ricordiamo tutte le storie. Qui abbiamo lavorato in un mese, non dico per risolvere i problemi, non sono così visionario, ma per indirizzare una politica comune. E questo indirizzo in un mese tra il Consiglio europeo del 26, l'Eurogruppo e poi il Consiglio europeo del 23 aprile, io credo che non sia un merito dell'Italia, sia un merito dei nove paesi, sia un merito anche non solo di un senso di solidarietà, anche di un interesse comune che si è palesato. Perché questa, essendo una crisi sistemica e toccando la catena di valore, le produzioni, la domanda, l'offerta, che è assolutamente integrata, non può vedere nessuno che eviti di lavorare insieme. Quindi io non metto bandierine, abbiamo contribuito, mettiamola così diplomaticamente, tra il 26 marzo e il 23 aprile a affermare che c'era la necessità di strumenti nuovi, come ha detto anche il sommo pontefice durante l'omelia di Pasqua, strumenti nuovi per affrontare una crisi che è senza precedenti. All'onorevole Fassino fa dei rilievi molto giusti. Allora, la tempistica è fondamentale, il Consiglio europeo ha dato mandato alla Commissione che a metà maggio, adesso c'è un negoziato preventivo di tutti gli Stati in core, di formulare la proposta di bilancio e fondo per la ripresa. Una volta che la Commissione presenterà, e ovviamente stiamo tutti negoziando, ci sarà il passaggio al Consiglio europeo che si terrà a giugno che deve validare questi due strumenti. Ovvio che sarà un mese di negoziato, ma ci sono 27 interessi nazionali che discutono di strumenti nuovi, tecnicamente anche molto complicati, perché la strutturazione di questo Recovery Fund si fa in una maniera mai provata prima, cioè si alza il massimale delle risorse proprie, la differenza tra le risorse proprie e quelle realmente impegnate ti dà uno spazio che è uno spazio teorico, quindi senza i contributi nazionali, quello spazio teorico viene utilizzato per andare sul mercato, prendere titoli a debito, quindi emettere bond e avere risorse fresche. Voi mi direte che è molto complicato ingegneristicamente, io dico che uno finalmente si afferma dopo tanti anni che era possibile con questi trattati anche fare ricorso a strumenti a debito, che non era vietato, perché l'articolo 122 del trattato ha una supremazia rispetto al 310 che parla di parità di bilancio e secondo l'assistenza finanziaria può rendersi utile in crisi come queste e rendersi anche fattiva. Quindi sulla tempistica noi ragioniamo, proposte la Commissione metà maggio, Consiglio europeo giugno e soprattutto nel momento in cui si ratifica il QFP si ratifica anche un front loading, cioè un anticipo che fa sì che questo recovery fund tecnicamente venga già messo in campo, venga già alimentato a risorse perché la crisi non può aspettare un semestre, deve essere come molti di voi hanno detto da subito affrontata. Il senatore Urso dice una cosa molto giusta, sorpresa, non solo il fatto che sono d'accordo, questa non è una novità, ma sono le stesse parole che ha usato la Presidente Ursula von der Leyen quando ha detto che gli aiuti di Stato che sono stati necessari per tutti i paesi per avere una politica espansiva fortissima, al conteggio vedono che al 56% i paesi con più grande spazio fiscale, tra cui la Germania, hanno ovviamente investito di più. Non è una novità che la Germania ha più spazio fiscale, quello che è un problema è che ovviamente se questa crisi è simmetrica, cioè ha colpito a tutti quanti noi, ma se il rischio che per problemi relativi ai debiti, ai bilanci nazionali, ci sia una simmetria, questa fonte di aiuto possa acuire un dislivello. Le autorità tedesche giustamente dicono che questa nostra spinta aiuta le catene di valore europee, quindi anche i subfornitori, le forniture che non sono solo tedesche. Fatto sta che si sta lavorando in commissione, credo nel prossimo collegio, per approfondire i temi del aiuti di Stato, del cosiddetto temporary framework e quindi voglio dire all'onorevole Lupi che questa è una delle nostre priorità. Infatti il mandato negoziale che abbiamo dato al nostro ambasciatore è molto complicato di andare oltre i sei anni e anche di lavorare sulla ricapitalizzazione delle imprese che prima della crisi avevano i bilanci non eccellenti, ma su cui non si vede perché bisogna escludere un aiuto. Faccio presente che nel prossimo decreto anche metteremo una norma sugli scudi fiscali e sugli aiuti per le regioni, che anche loro possono accedere al temporary framework degli aiuti di Stato per le proprie spese. Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Valentini, è giustissimo, gli effetti leva e l'ingegneria finanziaria bisogna vederle perché poi molte parti del bilancio del QFP sono basate su effetti leva che a volte danno buoni risultati come il piano Juncker o InvestEU, però non sono risorse fresche. Qui è un tema annoso, in base all'articolo 311 tutto il bilancio dovrebbe essere fatto per risorse proprie. Sappiamo che c'è una grande difficoltà, sappiamo che i contributori netti andranno in difficoltà nel prossimo bilancio, bisognerà trovare un equilibrio. Se parte il recovery fund con questa ingegneria che ho descritto sulle risorse proprie è ovvio che abbiamo un albero che lo utilizziamo dal punto di vista della massa di risorse proprio per affrontare la crisi e al tempo stesso riusciamo a strutturare in tempi da gennaio oltre con tutti i programmi del bilancio europeo, fondi coesioni e agricoltura che sono priorità delle risposte settoriali. Il tema che abbiamo tutti quanti noi, però io lo dico e lo dico anche all'onorevole Del Mastro, l'Europa che fa? Io accetto tutto, figurarsi, però siamo onesti. Noi abbiamo da marzo una possibilità regolamentare che ci dà possibilità economica di politica espansiva. Allo stesso tempo e le dichiarazioni di due ore fa della Lagarde che confermano che l'impatto e l'impeto potrei dire del programma PEP addirittura si allarga e non a temporaneità ci dà la possibilità di dire che due istituzioni democratiche intese rappresentate dagli Stati, come la BCE e la Commissione stanno lavorando proprio nel senso che dice lei, cioè sostenere l'economia europea, evitare la frammentazione dell'area euro, perché l'obiettivo vero della BCE adesso non è solo la resilienza sui mercati e gli spread, ma è anche evitare che quei dislivelli che vediamo nell'economia reale si producano oppure sulla moneta e che questa crisi, come un virus, da una crisi socio-economica e le catene valore addirittura si possa trasformare e avere un impatto sui debiti sovrani e quindi ricominciando tutte le storie che conosciamo nel passato. Io non difenderò mai la tempistica dei negoziati, anche se per fare dei compromessi a 27, come noi abbiamo un interesse nazionale, ce ne sono altri 26 che non è, anche loro a casa loro gli dicono sbattete i pugni sul tavolo, se qua tutti e 27 dovessimo sempre sbattere i pugni sul tavolo non inizierebbe mai una riunione. È evidente che 27 paesi devono incontrarsi e stanno incontrando per la prima volta un senso comune, questa è una crisi che ci riguarda tutti, nessuno escluso e ci dobbiamo muovere in una direzione conseguente. Sappiamo che i tempi sono lunghi, però abbiamo la BCE e altre istituzioni che sono all'opera per permetterci di lavorare. Per quanto riguarda il senatore Candiani confermo che la vigilanza rafforzata è già nei trattati, io capisco che per alcuni giornali era una novità, ma la vigilanza rafforzata è l'articolo 2,3 del regolamento 472 che dà alla Commissione la sorveglianza rafforzata su qualsiasi atto dell'Unione Europea. Non capisco la novità. Ora, se si vuole dire che questa sorveglianza rafforzata verrà usata per le condizionalità messe, leggere quello che ha detto la Commissione che si sta valutando è un tema di negoziato. Lo dico anche senza cercare di fare scalpore, ci sono stati casi di utilizzo di messe senza condizionalità anche nel passato, il caso della Spagna sul salvataggio delle banche era un salvataggio senza condizionalità. Quindi sul MES capisco tutte le impostazioni, ma noi l'abbiamo sempre ripetuto. Il programma base del trattato 2012 non ci interessa, ma non per uno scrupolo ideologico, perché come ha detto anche Regling in un'intervista del Corriere della Sera, quelli sono programmi tipici per politiche relative a stati che vanno in crisi finanziarie, cioè i meccanismi del 2012. Oggi stiamo parlando di un'altra cosa, cioè che l'Eurogruppo ha il mandato di definire e utilizzare dei fondi del MES, del fondo MES che sono anche nostri, non lo dimentichiamo mai, per costruire una linea di credito per spese relative al contrasto al Covid, spese indirette che significa anche le spese dovute al lockdown, a tutte quelle che sono state i sacrifici che abbiamo fatto, e anche di riprogrammazione sanitaria. Ora, se questa linea di credito ha delle specifiche giuridiche, lo vediamo nel negoziato, ma la mia posizione è quella del Governo. Dire di no a priori mi sembra un'opzione senza senso, perché non stiamo parlando di aderire al trattato del 2012, stiamo parlando di aderire a una linea di credito con dei tassi che sono inferiori a quelli dei tassi di mercato, quindi è un vantaggio che qualsiasi persona può farsi i calcoli in tasca. Quando avremo le specifiche giuridiche, quando avremo il regolamento di Shure, quando avremo il regolamento di Baye, quando avremo anche la proposta QFP e Recovery Fund, il Parlamento dovrà necessariamente votare, perché si dà il mandato al Presidente del Consiglio di andare a firmare degli accordi a livello europeo, quindi nessuno sta scavalcando nessuno. Però il nostro suggerimento è valutiamo le linee, lo dico anche al Senatore Lucidi, valutiamo le linee per quelle che sono, non per quelle che vorremmo a volte che fossero, perché facendo così non credo che facciamo davvero un aiuto al nostro Paese, anche alle nostre società in difficoltà, alle nostre comunità in difficoltà. Confermo all'Onorevole Boldrini che la priorità sociale sarà la nostra priorità, non a caso Shure che tutti e molti ostacolavano e è riuscita a essere una delle priorità. Confermo al Senatore Casini che il turismo sarà uno dei settori principali su cui achiederemo l'attivazione del Recovery Fund. C'è adesso un accordo tra l'Italia, Portogallo, Spagna e altri Paesi che ha fatto il Ministro Franceschini per riattivare quella che è un lavoro che vedrà uno dei settori europei più colpiti. All'Onorevole Galizia sul dumping fiscale. Io su questo vorrei essere chiaro. Nell'Europa che conosceremo e che stiamo conoscendo non ci sarà un'ora X secondo me in cui torneremo d'amblè a rispettare tutti i parametri socio-economici sono cambiati e secondo me un lavoro sulle regole che ci tengono insieme sarà necessario. Come ha detto anche molti esponenti, anche in Germania, il tema del dumping fiscale va risolto. Il nostro suggerimento è non lavorare, come ho letto da alcune parti, chiedendo il cambio del patto di stabilità o chiedendo l'introduzione le clausole passarella per superare il dumping fiscale? Per un semplice motivo, perché quei meccanismi vanno attivati all'unanimità. C'è un altro meccanismo che ha suggerito il Commissario Gentiloni all'inizio del suo mandato che è l'articolo 116 che analizza proprio le deviazioni dei sistemi comuni e si attiva non all'unanimità, si attiva a maggioranza. Quindi dato che adesso il clima è cambiato, perché se tu hai una politica fiscale comune significa che mettiamo in comune anche non solo diritti ma anche doveri, cioè ognuno deve attrezzarsi per questa comunità di intenti, c'è la possibilità. In quella via indicata tre mesi fa dal Commissario Gentiloni, perché lo pose come una delle necessità, riflettere sul patto di stabilità e crescita, pre-Covid adesso diventa ancora più impellente, ma ragionare anche su quelle che sono delle regole che non sono più appropriate al nostro tempo. Quindi in conclusione, per essere brevi, io credo che noi cari Presidenti lavoreremo molto insieme perché appena la Commissione presenterà la proposta di QFP e di Recovery Fund, le Commissioni saranno chiamate a entrare nel merito insieme alla esteri e alla bilancio, a discutere nel merito queste proposte, le tre safety net e la proposta di bilancio e a lavorare perché il Governo abbia il mandato a finalizzare gli accordi e ovviamente purtroppo, lo dico con molta mispiace, ma lo dovremo fare il prima possibile, proprio per evitare poi di dire che l'Europa non fa niente e i tempi saranno necessariamente stretti. Meglio avere un negoziato in tempi stretti che perdere una possibilità di attivare subito le risorse per la crisi impellente che abbiamo da affrontare tutti quanti insieme. Quindi il mio appello è appena la Commissione, noi ovviamente con la nostra rappresentanza a Bruxelles stiamo già lavorando in un negoziato preventivo, ma quando la Commissione presenterà QFP e Recovery Fund sarà necessario che le Commissioni lavorino celermente per avere una posizione del nostro, spero, unitaria del nostro Parlamento. Grazie Ministro, ovviamente con la Commissione ci saremo, io ringrazio i colleghi, colleghi al Senato, Presidente Licchieri, Presidente Canale, grazie al Ministro, grazie a voi tutti, e dichiaro conclusa questa audizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.